E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovissimo video Se avete riconosciuto questa maglietta l'ultima volta che l'ho indossata se ben vi ricordate Era quando vi avevo parlato del sistema operativo che utilizzano in Corea del Nord Il temibile Red Star OS Il primo video in cui semplicemente installo il sistema operativo e vi faccio fare un tour Vi è piaciuto così tanto che io poi ho deciso di approfondire la questione E ho scoperto che sotto a questo sistema, non sto scherzando, si cela una vera e propria macchina per controllare un intero popolo Che poi se ci pensiamo è quello che purtroppo la Corea del Nord fa normalmente Quindi ovviamente il loro sistema rispecchia questo suo modo di pensare e di agire E ho scoperto delle cose celate, cioè che non si vedono, che molto probabilmente non sapranno neanche loro Neanche gli utilizzatori di questo sistema, lo saprà solo il governo Comunque chi ha programmato questo sistema per conto del governo E sono dei segreti veramente macabri Io li ho scoperti, ovviamente vi darò le prove di tutto questo Grazie a una conferenza che ho trovato su YouTube, ve la lascio in descrizione Un video di un'ora e passa in inglese Però se capite l'inglese andatevelo a guardare perché è veramente interessante Se invece volete un riassunto continuate a guardare questo video Ragazzi veramente ci sono dei segreti terribili che mi hanno lasciato a bocca aperta E adesso li vedremo Come potete vedere sul mio Mac ho Red Star Demo Che è il sistema operativo esattamente come lo avevamo lasciato noi dall'ultimo video Quindi installato, non ci ho fatto niente E invece Red Star OS a 64 bit l'ho reinstallato in un'altra macchina E guardateci ho fatto un po' di modifiche Allora innanzitutto come potete vedere ho applicato i 16 noni Quindi il sistema operativo in alta risoluzione Non è più in lingua coreana, è in lingua inglese E ho attivato sudo, quindi i permessi di root Ma chiudiamo subito questo sistema Perché per farvi vedere le vere atrocità Dobbiamo partire da un sistema operativo normale Quindi appena installato senza nessuna modifica Che è quello che ho installato qui adesso Perfetto, ci siamo loggati all'interno del nostro sistema operativo La prima cosa che voglio fare è farvi vedere come mettere il sistema in lingua inglese Perché comunque molti di voi mi hanno detto che volevano provarlo Ma che come me del resto non capiscono il coreano Quindi per mettere il sistema inglese è veramente molto semplice Però prima bisogna ottenere i permessi di root Per ottenere i permessi di root come anche alcuni di voi mi hanno fatto notare È relativamente semplice Bisogna aprire il terminale E invocare questo comando Se noi infatti diamo invio Ci appare questa schermata delle impostazioni Sblocchiamo le modifiche inserendo la password del nostro utente Abilitiamo il root Quindi qui dovremmo creare un password per l'account root In caso metto la mia solita Blocchiamo le modifiche Perfetto lo chiudiamo Ctrl C e siamo pronti Abbiamo attivato l'utente root Per applicare i cambiamenti basta chiudere il terminale E fare una disconnessione dell'utente Quindi ci scolleghiamo E come potete vedere è stato creato questo nuovo utente Che è l'utente root Adesso infatti scrivo l'utente root Password quella che ho inserito Invio e si carica il sistema come system administrator Quindi vi faccio vedere subito Se io apro il terminale E scrivo sudo UMI Root Perfetto abbiamo attivato l'utente root Ora io non so se questo loro lo possono fare o no Ma fidatevi che per quello che vedremo dopo Anche se avessero l'utente root Sarebbero comunque in preda alle spie Seconda cosa che voglio fare è abilitare la lingua inglese E si fa con sed Si devono dare due comandi sed Il primo è questo E il secondo è sempre lo stesso Solo che anziché andare a toccare il file i18n Bisogna andare a modificare il file usr Shareconfig Slash kde globals Basta un'altra disconnessione E riconnessione E in questo modo Boom Lingua inglese attivata Adesso siamo pronti per vedere Tutti i segreti Di questo sistema operativo E io partirei Dal più macabro Allora Come voi sapete In quello stato Non si ha la libertà di poter dire Quello che si vuole Non si ha neanche la libertà di poter Passeggiare E tenere il taglio di capelli Che più si preferisce Quindi figuriamoci la libertà di espressione E sappiamo che le punizioni Per chi dovesse Esprimere qualsiasi idea Che vada contro Il regime totalitario Subirebbe delle gravissime conseguenze La più probabile La pena di morte Cosa succederebbe Se io Nella Corea del Nord Avessi Ma ve la faccio vedere Una qualsiasi immagine Ritenuta offensiva Per il leader Ma ce ne sono tantissime Per esempio Cerchiamo Kim Jong Meme Te Prendiamo questa Che figurati Si va a toccare la morte Del leader Sarebbe proprio Punitissimo Ok Mettiamo caso che io sia un cittadino Entro in possesso Di questa immagine È già molto difficile Perché come abbiamo visto Loro non hanno internet Ma hanno intranet Un intranet loro Quindi loro non potrebbero accedere A questa immagine Ma facciamo finta Che io Sia in possesso Di questa immagine Ok Quest'immagine Io la sto aprendo adesso Sul mio Mac Quindi non viene soggetta A controlli Oppure modifiche E facciamo una cosa Io non so se voi sapete Cos'è il fingerprint Di un file L'impronta digitale Di un file È un codice Una targa Che ogni file Ce l'ha diversa È univoca Per ogni file Che ci permette appunto Di capire Se un file È stato modificato Adesso io voglio Che voi vi segnate Il fingerprint Di questa foto Che ho appena scaricato Da Google Per esempio Un fingerprint Molto affidabile È lo SHA-1 Quindi calcoliamo Lo SHA-1 Di questa foto Che è esattamente Questo qua Comunque comincia Con 5B E finisce Con B7 E quindi Questo è Cioè vi faccio vedere Se io questo file Lo copio Ok Ne creo una copia E calcolo Lo SHA-1 Della copia Come potete vedere Lo SHA-1 È sempre quello Perché è proprio L'impronta digitale Di questo file Se voi cambiate Anche un pixel Di questa foto La sua impronta Cambia Poi capirete Perché vi ho fatto Questa premessa Dunque mettiamo a caso Che io Abitante coreano Abbia questa foto Che ripeto È proibita E la volessi condividere Con dei miei amici Siccome lì non c'è internet La piazzo su una chiavetta USB E la faccio girare Attacco la mia chiavetta Al computer Io adesso lo sto facendo Da Mac E non da Red Star OS Capirete poi perché Poi lo faremo anche Da Red Star OS E vi mostrerò Le differenze Apre la propria chiavetta E ci butta dentro la foto Ok Poi la espelle Chiude il finder E boom È liberissimo poi Di prendere la chiavetta E darla in giro Quindi mettiamo caso Che ora viene passata Da un'altra persona Sempre in Corea del Nord Che la vuole visualizzare Sul suo computer Che ha Red Star OS Guardate cosa succede Noi riattacchiamo La USB Su quest'altro computer Quindi in questo caso Gli dico Connetti alla macchina virtuale Perché deve vederla Red Star OS Come potete vedere Eccola qui La riconosciuta La apro E vedo che c'è questa foto Che apro Chiaramente perché voglio visualizzarla E penso Nessuno mi beccherà Perché sono USB Guardate Adesso Cosa succede Se io Ritorno al mio Mac E riattacco La USB al mio Mac Quindi la sconnettiamo Dalla macchina virtuale E tra poco Viene riconosciuta dal Mac Eccola qua Voi direte C'è sempre lo stesso file Andrea ma ci stai prendendo in giro Cos'è cambiato? Usiamo adesso il terminale Per calcolare l'impronta digitale Di questa immagine Quella che è passata Per Red Star OS Quindi OpenSSL Show 1 Di questa foto che ho preso Dalla USB Come potete vedere La show 1 è cambiata Perché Questa è una cosa macabrissima Questa immagine È cambiata Rispetto a quando Io l'ho aggiunta Alla USB A occhio nudo Sembra uguale Cosa è cambiato? C'è un programma Fatto apposta Che vi dice In cosa differiscono due file È una cosa che può fare qualsiasi editor Resa decimale Su Mac io uso iHacks Quindi apriamo con iHacks Sia il meme della chiavetta Che ricordatevi è questo qui Che sta sulla sinistra Sia il meme Quello originale Che io ho copiato Sulla chiavetta Che è quello che sta sulla destra Guardate qui Adesso io gli dico File Compare E lui mi dice le differenze La differenza come vedete Sta alla fine del file Nel senso che Il file che è stato passato Sul sistema operativo Red Star Include questi codici in più rossi Sono praticamente una specie Ve la sto facendo molto breve E semplice Un seriale Cioè come se fosse una targa Ogni computer ha una targa Quindi Red Star OS Automaticamente Senza che voi ve ne accorgiate Marchia Ogni file multimediale Quindi Video Foto Audio Testo Qualsiasi file che possa essere utilizzato Per diffondere un'idea Lo marchia con il seriale Di tutti i computer Su cui è stato Questo ovviamente i cittadini Non lo sanno Potrebbero risalire tranquillamente Non solo a tutti i computer Che hanno visto quel file Ma anche a chi l'ha fatto partire E siccome loro avranno sicuramente Un database Che sa perfettamente Ogni cittadino Quale computer possiede E che seriale ha quel computer Loro potrebbero veramente Avere una specie di mappa Per capire esattamente Una foto Da chi è stata iniziata E tutti quelli a cui è arrivata E ovviamente Sparerebbero a ognuno di loro Dai ora sdrammatizziamo Vi mostro una curiosità Più divertente Ma comunque preoccupante Allora se noi apriamo le impostazioni Andiamo nella sezione screen saver Guardate Uno degli screen saver Di default qual è È questa con i fucili È un attacco Con i cannoni Cioè ragazzi Io veramente Non ho parole Poi un'altra cosa scandalosa Che ho notato Questa bandierina Indica un antivirus Ma un antivirus Che non cancella I virus dal sistema I malware Bensì cancella Senza preavviso Qualsiasi file di testo Che contenga delle parole Bannate dal regime Cioè se io scrivo Viva la libertà Il file mi viene cancellato Purtroppo questo non ve lo posso mostrare Perché non so il coreano Non so scrivere in coreano Ma fidatevi che è così Insomma dopo aver visto che marchi ai file Potete tranquillamente credere anche a questo Poi la penultima cosa che vi voglio dire Che ho trovato molto curiosa È che questo sistema operativo Ha moltissime violazioni di copyright Nel senso Innanzitutto è una distribuzione di Linux Che si basa su un kernel open source Credo sotto la licenza GPL E la licenza GPL dice che praticamente tu puoi Basare il tuo software su un altro software Che è già in circolazione Che è open source Però in cambio devi rilasciare il codice sorgente Anche del tuo software Ovviamente il codice sorgente di Red Star West Non esiste perché scopriremo troppe cose Quindi questa è la prima violazione di copyright La seconda violazione di copyright Che io ho trovato assurda Di un file di sistema Sta in usrlib Ed è questo Warning.wav Warning.wav Adesso ve lo faccio sentire Come potete vedere un file di sistema Chissà per cosa viene usato Che è rubato dai file copiertati Di Kaspersky Antivirus Cosa che non si può fare Tu non puoi prendere i file copiertati Di un'altra persona Ma secondo me Kaspersky è abbastanza intelligente Da non andare a telefonare a Kim E dire Hey ti denuncio Perché mi hai rubato il file Io glielo lascerei fare Se fossi in lui Perché non vorrei che puoi Trovarmi un missile qui Perfetto ragazzi Dopo che vi ho mostrato queste atrocità Vi mostro un'ultima cosa Molti di voi mi avete detto Prova a utilizzare il browser Per andare nei siti interni Della Corea del Nord Ragazzi non lo posso fare Numero uno Perché non è proprio fisicamente Possibile accedere da qui Alla loro intranet Non è un discorso di proxy È un discorso che io dovrei essere Fisicamente lì Per entrare in quell'intranet A parte che se ci riuscissi Non vorrei tipo scatenare La terza guerra mondiale Però effettivamente Per farvi contenti Ho trovato Credo l'unico sito al mondo Che ha sede in Nord Corea E utilizzano i nordcoreani È un sito loro Che è accessibile Anche dal web normale Ed è questo qui Non si raggiunge tramite dominio Ma tramite indirizzo IP Ovviamente è lentissimo a caricare Perché deve connettersi Praticamente dall'altro lato del mondo Visto che ha sede solo lì Mettiamo la lingua inglese Dato che questo sito ce l'ha E ragazzi Questi sono i siti che hanno loro Voice of Corea La voce della Corea Praticamente sono solo siti Che esaltano Kim Jong Cioè Lettera di Natale a Kim Jong-un Turismo che ti esalta Questi posti Vedete il mare Ti fa vedere quanto sono belli Cioè È come se fosse tutta una finzione Ce l'avete presente? Vi per vendetta Gli unici siti che ci sono lì Sono siti mascherati Che esaltano la bellezza Del loro stato Per non fargli sparare in testa Praticamente Quindi vi ho fatto vedere anche Un tipo di sito Che hanno loro Vedete c'è l'orario di Pyongyang C'è il meteo Stanno congelando come da noi Ho apprezzato tantissimo fare questo video Ho apprezzato anche il fatto che La prima puntata vi sia piaciuta Ma veramente Quando ho scoperto le cose Che vi ho detto in questo video Sono rimasto Basito Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi Nei commenti Mi raccomando Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network Come sempre il link Ve lo lascio qua sotto Giù in descrizione Cliccando qui ai lati Potete raggiungere altri miei due video Invece cliccando qui al centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate Siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video In un prossimo video